Semplicemente il fatto che il carico di lavoro come dirigente regionale è quello di consigliere comunale, per me era insostenibile, non riuscivo a conciliare entrambe le cose, quindi ho ritenuto e ho preferito dedicarmi a quello che è il mio incarico principale, quello lavorativo, professionale, di dirigente regionale. E quindi, voglio dire, resto nel Movimento 5 Stelle e condivido valori, principi del Movimento, perché sono i miei stessi principi e i miei stessi valori, soprattutto basati sull'onestà, la correttezza, la professionalità e la moralità. Ecco, questo è quello che mi sento di dire.